Questa mattina è partito il bando per lo sostegno alla ripartenza, un contributo a fondo perduto per chi investe, un piccolo contributo fatto per le piccole aziende, le micro imprese che in qualche modo hanno avuto un danno diretto dai dpgm. A mezzogiorno sono state raccolte 3555 domande da parte dei codici Ateco nelle aree commerciali e 92 domande nei centri commerciali. Quindi in qualche modo c'è stata una grande richiesta di questo contributo e devo dire anche una buona tenuta del nostro sistema informatico che in poche ore è riuscito a tenere tutti questi accessi contemporaneamente. Quindi un segnale positivo, consideriamo ancora che siamo più o meno a un terzo della disponibilità economica e sperando che da qui alla conclusione mercoledì si riesca ad esaudire tutte le richieste. Ovviamente questa non è una misura esaustiva ma è un piccolo contributo per sostenere in questo momento chi sta veramente in difficoltà a causa del crollo dei consumi e anche della chiusura dovuta a delle norme create dal governo.